Ringrazio veramente tutti i bambini, tutti questi bambini di Natale che sono da lente, sono venuti perché con questi gesti siete buonissimi, quindi non viene che siete buoni. Ringrazio l'Istituto Colossino e la taglietta e tutte le famiglie di questi bambini, grazie veramente. Con questi 855 euro già versati questa mattina, arriviamo a 15.350 euro, quindi siamo quasi all'arito, siamo già per il ventino per mezzo, siamo attorno a 18 forà per l'ana e quindi grazie veramente a tutti. Grazie.